Ciao ragazzi, eccomi qua. Sono quasi le due, sto aspettando l'autista che mi viene a prendere e portarmi a Napoli. Fa tre gradi, un freddo della madonna, le strade sono ghiacciate, per non parlare dei marci a piedi. Già due persone sono cadute. Non ho parole, che il comune continua a non fare niente. Io capisco che il centro va pulito, va sistemato, ma qua ci sono anche altre vie di Roma che vanno sistemate. La gente cade, si fa molto male, i marciapiedi sono ghiacciati. Quindi vabbè, io adesso aspetto la macchina, che Dio me la vanno di buona. Comunque vi terrò aggiornati passo passo in autostrada, così vediamo che situazioni c'è lungo la via che ci porta a Roma. Un bacio e ciao!